Analizziamo da un punto di vista teorico gli esperimenti che abbiamo visto nei video precedenti. Utilizziamo una bobina e le assegniamo convenzionalmente come verso positivo quello rivolto verso l'alto. Questo verso convenzionale corrisponde ad immaginare di percorrere l'avvolgimento, le spire della bobina, in questo verso, cioè in verso anti-orario se visto da sopra. Il primo esperimento è quello in cui viene inserita o estratta una calamita lineare all'interno della bobina. All'inizio però la calamita la poniamo ferma dentro la bobina e ci chiediamo quello che si chiede anche il libro Amaldi a pagina 970. E cioè già sappiamo che una corrente elettrica genera un campo magnetico e questo infatti lo sappiamo dall'esperimento di Ørsted. Allora ci chiediamo, non è che per caso vale anche il viceversa, cioè un campo magnetico può generare una corrente elettrica? Dunque mettiamo questa calamita dentro la bobina, la calamita genera il suo campo induzione magnetica e vediamo se questo campo induzione magnetica è in grado di generare la corrente in questa bobina. La bobina è collegata a un amperometro ma vediamo che l'amperometro non segna passaggio di corrente. Dunque il viceversa non è vero, non è vero che un campo B, qui rappresentato da queste linee, fa passare la corrente elettrica in un circuito. Però la cosa diventa vera se la calamita non sta ferma, se viene spinta all'interno della bobina, allora l'amperometro mostra passaggio di corrente. E se la calamita viene estratta invece dalla bobina, l'amperometro mostra passaggio di corrente elettrica nel verso opposto. Prima di spiegare perché accade questo, vediamo come sono stati collegati l'amperometro e il voltmetro. Abbiamo detto che la bobina ha un verso convenzionale con la faccia positiva rivolta in alto, quindi questa è l'uscita positiva convenzionalmente della bobina. Il punto C che è collegato all'ingresso dell'amperometro. Il circuito vero e proprio è questo, cioè quello che contiene l'amperometro, bobina e amperometro, questo è il circuito. Il voltmetro l'abbiamo inserito in parallelo, in modo tale da misurare non solo la corrente che scorre nella bobina, ma anche la differenza di potenziale ai suoi capi C e D. Infatti vediamo che i morsetti del voltmetro sono collegati con il punto C, l'uscita della bobina, e l'altro con il punto D. In pratica l'amperometro e il voltmetro sono collegati nello stesso identico modo. Il ramo del circuito dove c'è il voltmetro è praticamente un ramo morto, perché il voltmetro ha una resistenza virtualmente infinita, quindi la corrente non passerà mai in questo ramo, ma passa soltanto nella maglia di sinistra. Ora vediamo che succede quando la calamita viene inserita nella bobina. Aumenta il numero delle linee del campo B che attraversano le spire della bobina. Noi sappiamo già che il numero di linee che attraversano un circuito è il flusso del campo induzione magnetica B attraverso quel circuito, cioè in questo caso attraverso la bobina. Dunque se la calamita viene inserita dentro aumenta il numero di queste linee che attraversano il circuito e quindi aumenta il flusso del campo B attraverso la bobina. Allora la bobina reagisce cercando di contrastare questo aumento del flusso del campo magnetico. Siccome sono aumentate le linee che attraversano la bobina dall'alto verso il basso, la bobina cercherà di creare un suo campo induzione magnetica indotto, BI, nel verso contrario, cioè verso l'alto, in modo da cercare di ridurre l'aumento del numero di linee che la attraversano in basso. La bobina per generare questo campo B indotto fa scorrere corrente nei suoi avvolgimenti in questo verso, cioè verso destra, così da generare questo campo B indotto verso l'alto. La corrente indotta che circola verso destra segue esattamente il verso convenzionale che abbiamo detto all'inizio, il verso convenzionale degli avvolgimenti e quindi ha una corrente positiva. La corrente quindi scorre in questo circuito, in questo modo qua. Si vede anche qui, scorre così la corrente. Il voltmetro, a sua volta, misura una differenza di potenziale tra i punti C e D, con il voltaggio nel punto C più alto rispetto al voltaggio nel punto D. Infatti la corrente è spinta proprio da questa differenza di potenziale. C'è un potenziale maggiore in C che spinge la corrente verso D. Come si vede anche da questo disegno, il potenziale è maggiore in C, questo A non c'entra niente, qui ci doveva stare C, e è minore in D, che dovrebbe stare qua. La bobina quindi si comporta come se fosse un generatore, con il polo positivo in alto e il polo negativo in basso, che fa scorrere la corrente in senso orario. Quando la calamita invece esce, diminuisce il numero delle linee del campo B che attraversano il circuito, cioè la bobina. Cioè diminuisce il flusso del campo B attraverso la bobina. Allora la bobina cerca di ripristinare queste linee del campo B, generando lei un suo campo B indotto, stavolta orientato verso il basso, perché le linee del campo della calamita, orientate verso il basso, stanno diminuendo. Quindi la bobina cerca di metterci le sue di linee. Per generare questo campo B indotto verso il basso, la bobina fa girare la corrente verso sinistra, ed è una corrente negativa perché va nel verso contrario al verso convenzionale che abbiamo scelto per gli avvolgimenti. Quindi la corrente adesso gira in questo verso, anti-orario, come si vede anche qua, e la bobina si comporta come se fosse un generatore, con il polo positivo rivolto in basso. Quindi con una tensione maggiore nel punto D e minore nel punto C, come infatti indica anche il voltmetro. Il flusso del campo B della calamita attraverso la bobina lo indichiamo con questo simbolo, in cui SL è la superficie totale della bobina. E se la bobina per esempio ha 100 spire, la superficie efficace e effettiva che offre al flusso del campo B è l'area di questo cerchio, c'è l'area di ciascuna spira, moltiplicata per 100. SL rappresenta quindi l'area che è racchiusa dalla linea L, la linea L è tutto l'avvolgimento completo della bobina. Quindi tutta l'area racchiusa da tutto l'avvolgimento sono 100 volte l'area del cerchio. E si legge il flusso del campo B attraverso la superficie di contorno L. Attenzione quindi, una cosa importante, è che la bobina non reagisce al campo B della calamita, ma alle variazioni del campo B. Infatti finché la calamita stava ferma e generava quindi un flusso costante attraverso la bobina, la bobina non reagiva per niente. La bobina reagisce soltanto quando cambia il flusso di B attraverso di lei. E se questo flusso aumenta, la bobina cerca di contrastarne l'aumento. Se questo flusso diminuisce, la bobina cerca di contrastarne la diminuzione. E la reazione della bobina è tanto più forte quanto più è rapida la variazione del flusso di B. Infatti abbiamo visto in laboratorio negli esperimenti che se la calamita è inserita o estratta lentamente, la variazione è lenta del flusso di B e quindi la bobina reagisce con una corrente debole. Se invece la calamita è estratta e inserita molto rapidamente, il flusso del campo B della calamita attraverso la bobina varia molto rapidamente, cambia in fretta e la bobina reagisce più forte, cioè con una corrente indotta più intensa. Dunque in conclusione sono le rapide variazioni del flusso del campo B. Il B esterno della calamita, flusso attraverso l'area complessiva della bobina, flusso attraverso la superficie complessiva della bobina, dunque sono queste rapide variazioni del flusso che causano la corrente indotta nella bobina. E la bobina fa circolare questa corrente indotta nel verso giusto affinché, grazie a questa corrente indotta, la bobina possa generare il suo campo B indotto, che serve a contrastare quella rapida variazione del flusso del campo B della calamita, cioè quella rapida variazione del flusso del campo B esterno. Di nuovo, una rapida variazione del flusso del campo B esterno causa che nella bobina circoli una corrente indotta, che serve a generare un campo B indotto di contrasto a questa rapida variazione. Il concetto che la bobina reagisce per contrastare la variazione del flusso di B esterno si chiama legge di Lenz. Tutto questo fenomeno si chiama induzione elettromagnetica. Voglio sottolineare ancora una volta un concetto importante, e cioè che il circuito, la bobina in questo caso, non reagisce al flusso di B che la attraversa, ma reagisce alle variazioni del flusso di B che la attraversa. Alla bobina non dà fastidio il flusso del campo B esterno della calamita. Per quanto possa essere intenso questo campo B e il suo flusso, alla bobina non dà nessun fastidio. Alla bobina dà fastidio soltanto quando questo flusso di B cambia, soprattutto se cambia rapidamente. Quindi il concetto fondamentale è le rapide variazioni del flusso di B. In matematica il concetto di variazione è espresso dalla derivata rispetto al tempo, quindi il fattore scatenante dell'induzione elettromagnetica è la derivata rispetto al tempo del flusso di B attraverso il circuito. Questa derivata rispetto al tempo del flusso, cioè la rapidità con cui varia il flusso, si abbrevia con Φ punto. Il puntino sta a indicare la derivata rispetto al tempo, cioè la rapidità di variazione.